Adesso darei la parola alla consigliera comunale Eleonora Artesio, tutti sappiamo che è stata anche assessora regionale alla sanità e che è quindi di particolare competenza in materia, ci ha dato una mano ad avviare questo discorso mandandoci quei documenti di cui ho parlato all'inizio e quindi lascerei la parola a te Eleonora, grazie ancora di essere qui con noi. Bene, buonasera, anch'io prendo le mosse del ragionamento dal testo della proposta che è pervenuta e in modo particolare comincio dal capitolo La Proposta, vale a dire quello che ripercorre tutti i documenti di pianificazione regionali e nazionali e delibere regionali che definiscono le caratteristiche delle case della salute e impegnano le responsabilità delle amministrazioni, in modo particolare del legislatore regionale nell'istituzione. Il dettaglio degli atti è molto denso e peraltro le linee di riferimento di carattere organizzativo e relative agli obiettivi di salute da perseguire sono esattamente quelle che sono state richiamate nella discussione fino a questo momento e anche in tutti gli incontri precedenti. Quindi la prima domanda che verrebbe da porsi a un lettore è esattamente questa, ma se da circa 15 anni siamo nelle condizioni di riconoscere qual è la condizione ottimale per garantire nella prossimità l'assistenza sanitaria territoriale per quale ragione in questi 15 anni non si siano praticate queste modalità organizzative, non si siano raggiunti questi obiettivi. Quindi questa è la prima banale questione. Io do un'altrettanto banale risposta a questa banale questione che è drammatica dal punto di vista dell'insufficienza dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale. La banale risposta è questa, è che io ho visto tantissimi cortei di cittadini e tantissimi sindaci con fascia tricolore scendere in piazza per difendere il proprio spedale rispetto alla chiusura, ad esempio, di una funzione, quella del punto nascita, a prescindere dal numero dei parti che si verificavano in quel punto nascita. Ho visto tantissimi cittadini e tantissimi sindaci in fascia tricolore scendere in piazza per chiedere l'istituzione dell'emodinamica, non ne ho visti per chiedere l'istituzione di una casa della salute. Quindi questo sicuramente dipende dal fatto che abbiamo vissuto stagioni in cui per troppo tempo, anche a livello di cultura popolare, si è rimossa completamente la questione della tutela della salute e per troppo tempo forse in molti si sono troppo illusi di poter far fronte ai loro bisogni di salute con condizioni autonome di soluzione del problema, magari incentivate anche da tutti quei meccanismi di facilitazione dell'accesso a assicurazioni sanitarie private, comprese nel welfare aziendale. Sarà che il tema della salute vede oggi una militanza che non ha conosciuto da questi ultimi vent'anni e questo incoraggia fortemente, però la questione è che stiamo parlando di una tematica che sicuramente non attiene al primo livello di sensibilità della popolazione diffusa, almeno non attiene come obiettivo da perseguire. Che poi attenga al livello di necessità che ciascuno avverte nel momento di bisogno è un altro discorso, ma che attenga ad una priorità politicamente condivisa in termini di mobilitazione, questo non lo possiamo dire, altrimenti in questi 15 anni le case della salute si sarebbero fatte. Quindi il primo tema è questo e non mi stupisce che è una petizione che ha come titolo Riapriamo il Maria dell'Aide susciti così tanta vicinanza da parte della popolazione perché l'immaginario restituisce l'idea del riapriamo l'ospedale. Punto. E neanche nella nostra discussione, credo, a seconda delle provenienze professionali di ciascuno di noi, ho ritrovato nelle prime discussioni molte tracce di ricerca e aspettativa di riproporre in quella struttura un'attività di carattere ospedaliero. Quindi il primo tema da porsi è che bisogna legittimarlo questo modello delle case della salute perché se è legittimato nelle leggi, nelle delibere, nella cultura di qualche operatore non lo è nell'opinione pubblica diffusa, o almeno non lo è ancora. Lo è in quelle realtà, pianezza è stata citata, l'avrei citata anch'io, cito Castellazzo Bormida, potrei citare altre esperienze e lì i pazienti, le persone hanno capito e visto la reale possibilità di vedere soddisfatte le proprie necessità, ma nella dimensione collettiva il termine non ha una legittimazione. Quindi per provare a dare questa legittimazione ovviamente bisogna ragionare su quali siano le alleanze possibili da costruire, che certamente riguardano la necessità di essere credibili e convincenti nei confronti degli interlocutori istituzionali. Allora ci sono tutte le delibere regionali, io vi dico però, e lo sanno tutti almeno molti tra i nostri interlocutori, che gli ultimi comunicati della regione Piemonte sulle case della salute che venivano indicate esattamente come una soluzione di riforma complessiva del sistema della salute e dicevano per Torino 1 le case della salute saranno Valdese, Uftalmico, Via Monginevro, per Torino 2 le case della salute saranno Medeo di Savoia e Lungodora Savona. E il Maria dell'Aide non c'è. E allora bisogna legittimare il fatto che il Maria dell'Aide ci sia. E come si fa a legittimarlo? Probabilmente partendo da quel tema degli indicatori di salute che venivano richiamati. Prima credo di ricordare di aver trasferito a Maria Angela proprio le indicazioni del rapporto sullo stato di salute redatto dal professor Gepo Costa, quello che viene citato nei titoli del giornale per ricordarci che se prendiamo il tram partendo da Piazza Armada per arrivare in Piazza Montale alle Vallette, ogni fermata si perde qualche mese di aspettativa di vita. Nel senso che le popolazioni delle Vallette vivono meno delle popolazioni di Piazza Armada. Allora bisognerebbe verificare quanto è l'aspettativa di vita e quali sono le patologie più ricorrenti in quel triangolo di città per cominciare a legittimare la necessità che lì si debba potenziare l'impianto del sistema di assistenza sanitaria territoriale, altrimenti la regione vi ha già risposto. Quelle lì sono le case della salute. La seconda questione che riguarda la questione delle alleanze più generali riguarda le alleanze con i professionisti e io voglio essere esplicita fino all'estrema evidenza del problema, altrimenti non servo per migliorare un documento, quindi mi scuserete se non sarò particolarmente gradevole. La questione è questa. Il sistema delle cure primarie non coincide soltanto con i medici di medicina generale, ma non coincide nemmeno con i medici specialisti, altrimenti sarebbe un po' gli ambulatori. Quindi il modello delle cure primarie consiste e insiste esattamente in quel tipo di relazione interprofessionale e di continuità assistenziale che congiunge le competenze di chi ti accompagna per tutto il corso della tua vita, che è il medico di medicina generale, con quelle competenze di chi interviene per conoscenza specifica sulle patologie emergenti della tua storia di vita e di salute e che ti accompagna con la congiunzione delle capacità assistenziali nel momento in cui non sei soltanto in una condizione di malattia, ma in una condizione di malattia invalidante, che richiede anche che tu sia supportato possibilmente nelle condizioni domiciliari. Quindi è un sistema, non sono parti del sistema. Per coinvolgere nel sistema evidentemente il livello, accanto a tutta quella gerarchia istituzionale di cui parlava il dottore Giustetto, che è puntualissima e giustissima, c'è tutto il tema delle alleanze con professionisti che hanno dipendenze diverse. Il rapporto con i medici di medicina generale è un rapporto di professionisti in convenzione con il sistema sanitario nazionale. E io devo dire che sono una persona che ha un'esperienza assolutamente positiva, personale e familiare che dura da generazioni, con il proprio medico di famiglia, e quindi non posso che averne un riscontro favorevole, ma ho anche una conoscenza delle relazioni di ampio spettro, quindi con le rappresentanze della categoria dei medici di medicina generale. E credo serenamente di poter dire che non ho incontrato particolari difficoltà, se non di carattere logistico, di riconoscimento, nel momento in cui si è chiesto ai medici di medicina generale di cooperare con gli specialisti per la presa in carico del paziente affetto da malattie croniche. Sul percorso di continuità assistenziale per il paziente diabetico, piuttosto che per la BCPO, piuttosto che per il paziente con problemi cardiologici, non ci sono state difficoltà particolari a reclutare i medici di famiglia in questa responsabilità, che era non soltanto condividere il protocollo terapeutico, ma anche procedere con quella che viene chiamata l'iniziativa, cioè monitorare la frequenza con la quale il paziente acconsentiva a farsi, tra virgolette, sorvegliare per prevenire delle ricadute e dei rischi maggiori. Quindi io non ho trovato difficoltà da questo punto di vista. Parlando con chiarezza, dove sta la difficoltà? La difficoltà sta nel proporre loro un modello di carattere organizzativo, di condizione, di spazi, di tempi, di orari, di modi, in un unico contesto determinato dall'organizzazione del sistema sanitario. Quindi dal trovare questa unica sede e questa modalità di condivisione del modo di operare all'interno del gruppo di cure primarie. Qui sta la difficoltà. Allora, io personalmente credo che di fronte ad una situazione di questo tipo, che in passato, ma parliamo di 12 anni fa, fu affrontata cercando di lavorare sulle sperimentazioni, cioè sul reclutare i medici disponibili per dimostrare che facendo si sarebbe capito per tutti, pazienti e colleghi, che quel mondo sarebbe stato possibile e che quel mondo possibile sarebbe stato più favorevole e vantaggioso per l'insieme di tutto il contesto sociale. Dopo 12 anni non so restituire quali siano stati i progressi in quella direzione, però sicuramente una cosa che so è che da lì si deve passare, cioè dalla ricerca di alleanze con queste competenze professionali, che peraltro sentivo prima della ripresa e della registrazione del video un ragionamento sugli articoli che ricorrono in questo momento rispetto alla disponibilità dei medici in famiglia a concorrere al complessivo impianto dell'emergenza sanitaria di questo momento, in particolare delle vaccinazioni. Però guardate, mi permetto di fare una battuta per alleggerire un pochino il clima, per quelli della mia generazione è un po' come aver parlato della democrazia cristiana, non c'era mai nessuno che la votasse e dopodiché riusciva a vincere tutte le elezioni. Quando si interpellano, non il mio vicino di casa che si è arrabbiato perché non ha trovato il medico nel momento in cui voleva andare in ambulatorio o non ha avuto la prescrizione che avrebbe ritenuto desiderabile, ma quando si interpellano su base statistica i componenti del popolo italiano e gli si chiede qual è la figura medica di riferimento della quale ti fidi, ti rispondono i medici di medicina generale. E quindi da questo punto di vista io credo che si debba assolutamente lavorare sulla costruzione di queste alleanze ed è molto faticoso. È molto faticoso proprio per riuscire a conquistarli e per riuscire a rendere credibile questa conquista nei confronti della collettività che vi guarda, perché appunto dopo aver firmato, riapriamo il Maria Delaide, se spiegate che il Maria Delaide lì non sarà una succursale di un ospedale nel quale un mese dopo ci si comincia a chiedere che arrivi la rianimazione, ma è esattamente la casa della salute, per conquistare quel tipo di popolazione bisogna avere tutta la capacità di convincimento che credete passa esattamente dal rapporto personale tra medico e paziente, oltre che rispetto a tutto lo sforzo collettivo che si può fare di promozione di una cultura in ambito sanitario. Seconda questione, ne ho tre ma sono velocissime. Seconda questione, il punto unico di accesso. Allora, anche qua, il punto unico di accesso è stato deliberato dalla Regione Piemonte nel 2009 e sono arrivate anche delle risorse finalizzate o in capo alle Asi o in capo ai comuni, a seconda delle contesti territoriali e della determinazione di prevalenza che i singoli distretti individuavano rispetto a quei fondi e a quella competenza. Per il contesto torinese li ha ricevuti il Comune Città di Torino. Allora, il Comune Città di Torino, questo sportello unico di accesso, ce l'ha bello scritto dentro alla nomenclatura del piano di inclusione sociale, che sarebbe tutta la programmazione dei servizi sociali della città di Torino. Ora, si tratta di vedere se quel punto di accesso che oggi ha esattamente le funzioni che sono qui richiamate, l'unità di valutazione geriatrica, l'unità di valutazione multidimensionale, l'unità di valutazione minori, stia assolvendo a tutte le funzioni che si riterrebbero desiderabili come punto unico di accesso. Però anche qui non partiamo dal non vedere mai praticato un desiderabile che si era scritto in letteratura. Lo si era scritto in letteratura, si era scritto negli atti della giurisprudenza istituzionale e si sono fatte delle sperimentazioni. Quindi, secondo punto, suggerirei un contatto con il Comune di Torino su questa questione del punto unico di accesso. Eleonora, scusami Eleonora, ma sei ampiamente oltre i dieci minuti, se puoi riassumere. Allora concludo dicendo che c'è un riferimento qui al WIC Hospital, parlando dei posti letto. Vorrei ricordare che, ad esempio, il CTO sperimentò esattamente questa esperienza e che forse recuperare anche quel tipo di esperienza può essere utile. Ho finito. Scusami, abbiamo dei tempi, siamo già un po' oltre. Grazie mille, comunque, caspita, ci hai messo sulle spalle un compito. Contiamo anche su di te per cercare di andare avanti. E grazie comunque intanto. Grazie mille. Grazie.